Sono l'architetto Fausto Barbolini, progettista selezionato all'interno dell'iniziativa Vesto Casa dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena. Quest'iniziativa riguarda la riqualificazione energetica delle abitazioni esistenti, perciò dei sistemi di involucro delle abitazioni attraverso i sistemi di isolamento a cappotto, nel particolare riferite a case singole e abitazioni unifamiliari. Un aspetto importante sarà cercare di estendere questa iniziativa anche alle abitazioni plurifamiliari, intendiamo i condomini, per cercare di trattare con la tematica del risparmio energetico in maniera più estensiva ed allargata. La questione principale è presto detta, nel senso che l'isolamento dell'involucro disperdente, l'involucro edilizio, è la prima cosa all'interno delle strategie per risparmiare energia e inquinare meno l'atmosfera.